This is not, this is not going to say I'll give you my notes Credi che andare anche a cercare le cose belle E di cose belle nel mondo ce ne sono veramente tante Molto di più di quante ne potrò vedere Mi chiamo Stefano Costa, ho 63 anni Sono nato e attualmente vivo a Roma Faccio il fotografo Amo molto fotografare i paesaggi e i miei fiori A me piacciono molto gli stimoli, sono una persona curiosa Ho sempre bisogno di nuove esperienze Perché proprio mi fanno sentire vivo Qualcosa di tangibile, di una linfa Per questo anche passo dalla fotografia alla musica Alla scrittura o anche altre forme artistiche L'arte che sicuramente trovo più universale è la musica Grande curiosità E noi stiamo lì, ti guardiamo da dietro Ti senti da dietro Le onde, spero benefiche Stefano, buonasera Ciao Sei un uomo dalle mille passioni Allora leggo Musica Così dicono Fotografia Televisione Botanica Giardinaggio Però io so che tu avevi una band Che si chiamava L'Arcigliuto Ce l'hai ancora Che fece una domenica in Proprio con la nostra orietta verde Sì, come no Un'orietta fantastica Secondo te, orietta ti riconoscerà? Speriamo, io spero Grazie Il palco è tuo Ciao 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 Dai Clementino Devi cantare una canzone di Natale Dai Poi non so andare avanti Non mi ricordo le parole Ne sai tu Loredana? No, non la so Buon Natale Grazie Buon Natale Io odio Odio Babbo Natale No, è perché Che è Ebenice Scrooge A Loredana Non mi piace A me piace Poi vedere tutti quei Babbi Natale Che pendono dai balconi Mi fa veramente schifo Voi siete l'Arcigliuto Giusto? Esatto Sarai emozionato? Sento l'utra Penso così Perché da solo Perché senza di voi Non c'è il nostro appoggio Non c'è il nostro appoggio La David play And the please The Lord But You don't really care For music do Yeah Well it goes like this The fall The fear The minor fall And the major leave The paffled king Composent Hallelujah 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 Maybe there is a color ball But all I ever learned From the Lord How to shoot somebody Well do ya And it's not a cry And it's not a cry That you hear at night It's not somebody You see in the light It's a cold And it's a broken Hallelujah 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 E tu ti vieni! Grazie. Come ti chiami, tesoro? Mi chiamo Stefano Costa. Come? Un secondo. Come ti chiami? Mi chiamo Stefano Costa. Finalmente, Stefano. Stefano, sei una bomba. Le tue note basse sono strepitose. Tu hai un timbro particolare. Sei già pronto. Da dove vieni? Vengo da Roma. Quanti anni hai? Ne ho 63. Mi hai davvero spettinata. Mi fa molto piacere. Ma proprio tanto. E lo dice Loredana Bertè, eh? Cosa fai nella vita? Nella vita attualmente mi occupo di fotografia. Io mi sono girato quando ho sentito il salto di tonalità, cioè il salto di un'ottava. Tecnicamente per me sei superlativo. Sei stato superlativo e ti faccio i miei complimenti. Io sono d'accordo con il maestro D'Alessio e poi ti voglio dire una cosa. Qui abbiamo tre grandissimi artisti con un'estensione vocale pazzesca. Orietta, il maestro D'Alessio, Loredana hanno un'estensione vocale pazzesca. Io sono quello che canta bass. Quindi, se vuoi un... Capisci a metodi. Eh sì, secondo me possiamo andare d'accordo su questo. Sì, vabbè. Vieni squadra con me e non te repentirai. Se hai voglia di giocare vai con il Clementino. Se hai voglia di vincere vieni con me. Stefano, ho notato che hai sia le note basse, le note medie, le note alte, molto belle. Quindi puoi cantare qualsiasi cosa. Possiamo fare cose bellissime insieme. Orietta, io te ci conosci. Davvero? Alleluia! Alleluia! Come ci siamo incontrati Stefano? Ma io non lo so, Orietta conosce tutti. Abbiamo fatto insieme il Domenica Inn del 95. Ah, ecco. Dicevo, ma quel viso lì io l'ho già visto ancora, no? Certo. Io sono un fan spiegatato di Orietta perché è una persona fantastica. Infatti i fan non vanno quei cantanti e non sceglieranno. Abbiamo già lavorato insieme quindi, vedi? Sì, sì. Maggior ragione. Stefano, tu hai detto che ti occupi anche di fotografia. No. Io credo che non c'è un'immagine senza suono e non c'è un suono senza immagine. Bella! Se scegli me... Bravo! ...saprò cosa darti. Sì, non è una bella immagine però lui. No, ho detto immagine della fotografia. Allora Stefano, è arrivato il momento, devi scegliere. E' arrivato il momento. Dunque. Scegli me! Scegli me! Scegli me! Si spaventa se gli fai quelle facce lì. Io farò la mia scelta, però c'è una condizione. La mia scelta è Loredana. Bravo! E no! Scegli me! Scegli me! Grazie a tutti.